Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su GoInvest.it Oggi andiamo a vedere un protocollo nuovo, non troppo nuovo, diciamo la lettura risale a novembre 2021 quindi diciamo che è abbastanza nuovo come protocollo è un mix tra Abracadabra, MakerDAO, diciamo insomma ha la possibilità di mettere in collaterale quindi collateralizzare interest bearing token, LP token quindi diciamo che è abbastanza interessante si trova sulla chain di Avalanche e forse è la prima stablecoin di Avalanche quindi c'è da attenzionarlo, quindi facciamo attenzione a questo protocollo perché potrebbe avere del potenziale quindi oggi andremo a vedere principalmente che cos'è The Frost Finance andremo a vedere la price prediction, vediamo la roadmap e ovviamente i rischi quali sono perché comunque essendo nuovo la market cap non è proprio alta quindi vediamo subito che cos'è ecco quindi tratteremo che cos'è The Frost Finance, la tokenomics di Melt qual è la roadmap e quali i rischi si corrono operando su questo protocollo allora che cos'è The Frost Finance? è un protocollo decentralizzato che permette di sfruttare quindi LP token e interest bearing token per mintare e quindi per ricevere in prestito H2O che è la prima stablecoin nativa di Avalanche il suo token di governance è Melt che ti dà la possibilità di poter boostare le ricompense fino a 1x5 ragazzi, fino a 450 APR micidiale però comunque vedremo che non è proprio interessante come cosa perché comunque attualmente la tokenomics non è la migliore del mondo ecco perché comunque il token Melt attualmente costa circa 3 dollari ma nonostante comunque c'è una supply massima di 100 milioni quindi attualmente è solo di 2 milioni quindi il prezzo è un pochino troppo alto secondo me quindi non penso che nessuno del team vedrà mai questo video però diciamo secondo me il consiglio che potrei dare a questo team è quello di rilasciare velocemente più Melt token in modo tale da poter avere la possibilità di detenerlo e per boostare le ricompense altrimenti ora sarebbe un po' inutile ecco averlo allora ragazzi come anticipavo la market cap è ancora bassa è bassina nonostante comunque sia aperto da novembre 2021 è bassa però neanche troppo diciamo che inizialmente possiamo vedere come si sono resi conto del protocollo hanno iniziato ad investire poi però se ne sono lentamente dimenticati ed ora sta diciamo rientrando un'altra volta nel circolo di tutti quindi ecco la market cap di Melt è di 6 milioni e mezzo forse perché anche dovuto dal fatto che comunque costa troppo il token e quindi dovrebbe abbassarsi un pochino per poter boostare le ricompense e quindi poter detenerlo ok mentre la market cap di H2O è di 74 milioni quindi ci sono 74 milioni di dollari in H2O quindi 74 milioni di token ok vediamo la tokenomics di Melt ecco come dicevo l'emissione di Melt attualmente è di 2 milioni circa ok quindi facciamo attenzione perché piano piano il token Melt dovrebbe essere inflazionato fino ecco da qua a 48 mesi dovrebbero essere emessi circa oltre i 50 milioni di token una cui percentuale minima verrà destinata a airdrop e alla vendita per utilizzarlo con il marketing ok quindi ecco infatti questo è il grafico di Melt non è proprio bellissimo ecco diciamo che se il prezzo si fosse mantenuto sui 40 centesimi di dollaro sarebbe stato meglio perché comunque mi sarei sentito incentivato nel boostare le mie ricompense in APR ok quindi attualmente il boost per avere un minimo boost tipo del 3% si parla di circa 3000 dollari quindi non è proprio il massimo ecco ovviamente se già con un boost del 3% sui 100, 200, anche 500 dollari comunque sarebbe fattibile ecco anche perché spendendo magari 10.000 dollari hai la possibilità di ricevere un boost di circa il 30% oltre questo boost del 30% avresti anche la possibilità di poter accumulare token H2O quindi stablecoin ancora dal dollaro ecco quindi non è non è male ecco non sarebbe male ecco appunto boostando le pull ok si arriva fino a un 450% di APR 450% di APR che è equiparato a circa 3-4 mila per cento di APY ok ovviamente in questo momento mi sono fatto cioè proprio la possibilità di vedere sono circa 55 mila melt da poter inserire nel pull per boostarla fino a questa cifra 55 per 3 3 per 5,15 cioè troppi soldi ecco quindi probabilmente nessuno l'avrà fatto anche perché essendo nuovo come protocollo non so fino a che punto posso convenire una cosa del genere cioè ci andiamo a mettere in dei rischi troppo elevati ecco quindi meglio di no attualmente però comunque è da tenere sott'occhio perché nel caso in cui verrà inflezionato ecco quindi la tokenomics dovesse cambiare potrebbe essere carino ecco anche perché è la prima stablecoin di Avalanche quindi vedremo anche la roadmap non voglio spoilerare nulla però comunque ci sono cose interessanti ecco poi il team è anche abbastanza attivo hanno anche delle ama su youtube quindi hanno il fondatore ha fatto delle delle ama con il canale di Srederjo seguito comunque è una persona abbastanza trasparente e chiara e ovviamente dopo quello che è successo con Wonderland dopo che comunque si è venuto a scoprire che il ecco Sifu era diciamo un mezzo criminale diciamo ho un po' timore ecco di poter inserire dei soldi della liquidità all'interno di protocolli dove ci sono persone sconosciute soprattutto fondatori anche se comunque all'interno del del protocollo ci sono persone all'interno del team ci sono persone anonime ma comunque abbastanza attive ecco la roadmap allora la loro roadmap è abbastanza chiara e specifica hanno degli obiettivi fino al 2023 di cui ecco i primi obiettivi sono quello di portare H2O che sarebbe la stablecoin nativa di Avalanche su altre piatto su altre chain quindi ecco avere una una stablecoin cross chain nativa su Avalanche ok inoltre anche la liquidità di H2 vorrebbero spostarla su altre chain inoltre vorrebbero listare melt su varie exchange che non è male assolutamente anche perché avremo la possibilità di poter trasferi comprare e trasferire diciamo per i meno avvezzi alla DeFi potrebbero trasferire melt direttamente da un exchange centralizzato e poi vorrebbero inserire il defrost lab questo è nel Q3 e Q4 dovrebbe essere fino al 2023 mentre i primi tre punti sono nel Q1 e Q2 2022 il restante è Q1 e Q2 2023 e Q3 e Q4 2022 quindi inoltre vorrebbero inserire dei prodotti finanziari come derivati delle opzioni che non sono male dal punto di vista di copertura quindi potremo agire direttamente su questo protocollo per poterci per poterci proteggere in vari casi ecco poi magari ognuno diciamo agisce in modo in modo proprio per potersi coprire in queste situazioni magari mercato ribassi eccetera eccetera e una cosa interessante è il leverage farming leverage farming che ti dà la possibilità di poter prendere in prestito senza l'ausilio facendo una sola transazione quindi senza prendere in prestito depositare eccetera eccetera quindi facciamo tutto in un'unica operazione che è molto più fattibile chiara e definita ok oltre al roadmap ci sono dei rischi nonostante la piattaforma sia auditata da Certic ed è visibile anche il loro il loro diciamo il resoconto il resoconto di Certic effettuato dove c'è un solo problema legato alla centralizzazione che potrebbe essere potrebbe toccarci ma neanche tantissimo ecco quindi diciamo i principali rischi che io credo ci siano sono uno che è il rischio di liquidità cioè nel senso che come abbiamo visto nelle prime slide il rischio di liquidità nel senso che c'è ancora poca liquidità è un protocollo piccolo quindi diciamo che nel caso in cui la liquidità dovesse venire a mancare l'unica cosa che potrebbe succedere è quello che dampa il prezzo di melt e se abbiamo inserito tanta liquidità rischiamo ecco quindi questo è un protocollo nascente quindi è da attenzionare quindi da tenere sotto controllo da guardare però ecco io ci sono entrato sinceramente però con Stablecoin quindi tramite Curve tramite la mia strategia quella che attualmente ho utilizzato su questo protocollo la trovate sul nostro blog ve lo lascio in descrizione quindi diciamo sono entrato in maniera sicura con piccola quantità di fondi ecco inoltre c'è un rischio tecnologico il rischio tecnologico legato ai smart contract nonostante noi utilizzassimo comunque utilizziamo comunque delle stable coin quindi non ci esponiamo al rischio melt abbiamo la possibilità di incorrere in rischi tecnologici nel caso in cui uno smart contract non è proprio scritto bene abbiamo la possibilità di poter perdere i nostri soldi quindi con una conseguente con un conseguente svuotamento del pool di defrost finance che non è una bella cosa ed è successo a varie piattaforme quindi se andiamo basta andare su react vediamo che i rischi ci sono ecco i protocolli si svuotano quindi ci sono dei rischi quindi attenzione ok ragazzi questa era una piccola panoramica su quello che è defrost finance una piattaforma comunque abbastanza carina nuova e da tenere sotto controllo se il video ti è piaciuto inoltre mi raccomando aiutaci con l'algoritmo di youtube lasciando un bel like iscrivendoti al canale inoltre puoi visitare il blog per conoscere la mia strategia quella che ho utilizzato all'interno di questa piattaforma e niente ragazzi da cominvest.it è tutto buon farm